Allora, scusate, è un po' così, una cosa un po' improvvisata, però è una vita che stiamo cercando di realizzare questo grano di musica classica collettiva. Quindi l'idea è, adesso in particolare, consentendo questa reazione di realtà, avete un senso di raggiungere, quindi tutti insieme, intanto c'è una fase di preparazione, dovrete fare questa cosa molto semplice. Attenzione, cercate, anche perché è quasi impercepibile, ma tutti insieme possiamo tenere un risultato meglio, tutti. Oltretutto è consigliato contro i romantismi, in cui io dico il mincio, va bene, no, è consigliato, molto bene, tutti, eh, non vi vedo più però, vorrei sentirvi, bene, adesso facciamo 40-45 minuti di questo, poi passiamo all'altra mano, eventualmente, poi, no, vabbè, facciamo la più strigata. Ora ne faccio due e ce ne ridate due, due, attenzione. Però maestro, non mi sento, eh. Guardi, volevo, 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 scusa, non mi sembra, molto più sensato. E c'è questo, scroccio a dietro, non va per fare. Proviamo, 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 allora tutti insieme prima, così, poi ci scappiamo. ora due soldi potremmo essere c'è un particolare che ha distrutto il mio e adesso potrei vedere io che non faccio fare pezzo e la sigla lo incorre per l'altro scusate lo stupore non me l'aspettavo prima di cominciare un ripassino adesso capirete cosa serve no no No! No! Grazie a tutti.